E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, quest'oggi siamo nuovamente su Fallout per andare a trovare un'armatura davvero molto molto interessante che mi è piaciuta davvero molto e è l'armatura da combattimento classica, un'armatura che c'è dal 91 penso c'è da prima che è uscito il gioco però mi interessava riportarla anche perchè io l'ho presa una mezza volta e basta quindi mi sono andato a rivedere un po' dei vecchi video L'ho recuperata e ve la faccio vedere tra l'altro copiò la pazzesca insieme alla X01, un'armatura davvero molto interessante anche dal punto di vista statistico che comunque sia non è messa male sicuramente è molto meglio l'armatura che vi lascio qua in alto a destra del DLC di Fair Harbor per carità però questa si trova all'interno del gioco normale quindi senza DLC Sicuramente non è l'armatura più forte in assoluto però senza DLC io penso sia comunque sia un'armatura molto rispettabile forse anche una delle migliori Detto questo andiamo subito a vedere dove trovarla, non si può trovare, cioè o meglio si può trovare a livello 1 però allo sfascia carrozze qua dove vi ho indicato Non so se riuscite ecco a distruggere tutti i vari nemici eccetera perchè per me è stato abbastanza facile comunque sia con la X01 alla fine una volta che siete saliti di livello abbastanza semplice Però non saprei, non saprei, potete sempre provare Detto questo andate in questo posticino qua, vi sbloccate la gru qua nel terminale perchè altrimenti non potrete raggiungere la destinazione sopra questo non so cos'è un aereo distrutto non ne ho idea E niente semplicemente andate a recuperarvi questa armatura proprio un cerchio e raccoglie ecco andate c'è il nemico il boss, semi boss da uccidere Facilissimo se cari io l'ho one shottato e sono in molto difficile quindi molto facile che avrà appunto addosso la nostra armatura Mi manca, mi ha mancato un pezzo cioè mi sembra il braccio sinistro o il braccio, no il braccio destro comunque sia ragazzi è sempre fornidabile Non so come mai ho visto a tantissimi manca, a quanto pare mi volevo far sentire male con la non simmetria E detto questo, questo è quanto ragazzi, io spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e niente Detto questo ragazzi io vi saluto, vi lascio qua un po' di video se vi dovessero servire, glitch, tap infiniti così, esperienze infinite Ho fatto un po' di robe sul canale per rinfrescarlo un po' e detto questo lo ci vediamo in un prossimo video Buon giocato